E se è necessario, se è necessario, noi giorno 30 mobiliteremo l'intera Calabria perché pensiamo che il governo nazionale di questa legge di stabilità ha abbandonato la Calabria. Questo governo, il governo Renzi, di questa legge di stabilità ha abbandonato la Calabria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.